Grazie a tutti è stato solo kalos che è un significato generico, un termine greco che significa bello poi è stato abbinato il termine elegantemente perché rappresenta una sfumatura per scegliere un artista giovane perché la carriera di un artista si costruisce fin dall'inizio Miriam è una ragazza, una giovane artista che si sta affacciando adesso al mondo dell'arte con delle grandissime potenzialità Naturalmente scoprirete venendo a vedere la mostra Grazie 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 Grazie